Ho rivisto Angelo la scorsa settimana. Mi ha detto le stesse parole. Si ricordava tutto. Pareva mi aspettasse che sapesse quanto per tutti questi nove anni lo avessi aspettato. Adesso ho capito e non posso più tornare indietro. Quando sono uscito dalla clinica ho chiamato un taxi perché non riuscivo a camminare. Spiegare non credo sia possibile, ma raccontare mi sembra un dovere. a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.